Dopo l'alluvione del 2010 sono stati realizzati o avviati interventi per la difesa idraulica del Veneto che attualmente ammontano a oltre 860 milioni di euro. Non sono solo grandi opere strutturali come i bacini di laminazione capaci di contenere milioni di metri cubi d'acqua, ma di tanti interventi mirati di manutenzione. Dopo la siccità arriverà la pioggia detto oggi Zaia e dobbiamo farci trovare preparati. Ricordando che comunque il rischio zero non esiste, il presidente ha poi fatto presente che ci sono altre tante opere cantierabili ma per cui manca il finanziamento. Ha realizzato 714 opere per quasi un miliardo, abbiamo un altro miliardo pronto ad essere appunto cantierato. Il governo deve darceli, deve darceli perché siamo una regione efficiente. In attesa delle risorse c'è un'altra questione che preoccupa Zaia, la battaglia sulle trivelazioni. Bisogna bloccarle. Vi dico solo che il Veneto ha la più grande industria rappresentata dal turismo, 17 miliardi di fatturato. Cosa andiamo a dire in giro per il mondo? Che l'Italia è scenario di trivelazioni nelle parti più belle del suo territorio, penso a Pantelleria, le Tremiti e l'Adriatico. Non esiste, noi siamo contro le trivelazioni senza se e senza ma. Sulla volontà della Croazia di continuare nel progetto di trivelle, Zaia è chiaro. Anche qui si sta verificando l'autorevolezza del governo italiano, non esiste che la Croazia va a perforare l'Adriatico pensando che in un cattino d'acqua piccolissimo come quello del nord Adriatico le perforazioni in Croazia non pesino anche poi sul Veneto e sulle nostre coste, quelle dell'Emilia Romagna ad esempio.